Oggi in quinta Commissione Sanità si è discusso in maniera molto approfondita sulla delibera del riparto delle risorse finanziarie in ambito sanitario. È una cifra importante, sono 8 miliardi e 600 milioni di euro che vengono con capitoli di spesa destinati al funzionamento delle ulse e dei servizi essenziali di assistenza. La discussione si è centrata sulla ripartizione in ambito ulse in virtù anche della riforma della sanità che ha costituito le nuove ulse provinciali. Si vuole capire in maniera più approfondita quello che è l'impatto all'interno delle stesse ulse con la parte territoriale delle ex ulse e soprattutto si vuole capire quali sono anche gli impatti sul sistema sanitario, dei tagli e delle reali risorse che lo Stato dovrà assegnare in maniera definitiva alla Regione Veneto. Ad oggi non c'è un riparto definitivo in quanto lo Stato non ha ancora deliberato risorse certe. Ecco, l'unica cosa da dire è che magari nelle prossime sedute, quando ne discuteremo con dati più precisi bisognerà anche in qualche modo ripensare a quello che è il fatto di dare validità ai 5 anni. Credo che in questo caso andare oltre al limite della legislatura non sia possibile ma le correzioni come ovviamente ha già detto in sede di seduta l'assessore Coletto saranno fatte nella discussione comune. Con il riparto presentato dalla Giunta ci viene praticamente negato il diritto fondamentale dei consiglieri regionali di programmare la spesa socio-sanitaria nella nostra Regione. È un atto che va contro ogni principio di trasparenza. noi chiediamo di conoscere quanto sarà lo stanziamento per l'Ulss Dolomiti, per l'Ulss Euganea, per l'Ulss Erenissima, per tutte le Ulss e per tutte le aziende del Veneto. Non vogliamo sapere i criteri con i quali opererà poi la Giunta nella massima discrezionalità. Quindi è stato un atto oltraggioso nei confronti dei consiglieri regionali, soprattutto nel momento in cui si dice che questi criteri varranno per 5 anni. Ma come? Addirittura oltre la legislatura. È veramente un atto che abbiamo chiesto venga ritirato e integrato con riferimento a ciò che abbiamo fatto nel 2012. Un riparto serio con la pesatura, con la difesa delle specificità, in modo tale che l'organizzazione del sistema socio-sanitario sia veramente all'altezza della situazione. Non giochiamo a nascondino per problemi politici tra Presidente della Giunta Zaia, Presidente del Consiglio, e Presidente della Commissione.